Credo di aver visto qualcosa, vado a dare un'occhiata Che diavolo Credo di aver visto il video Credo di aver visto il video Vedo che succede Ti capro io Credo di aver visto il video Kevin, tutto ok? Tutto in ordine Tutto in ordine A sinistra Ci sono Centro Sono tutti morti? Non credo Mi sento Da questa parte Dai E' lì avanti avviciniamoci sono qui siamo alla fine bravo dall'altra parte ora sei fottuta di qua va cazzo vina scappiamo intruse sono con le iene che cazzo ne so ma la va possiamo sembrarli per ora può andare muoviamoci la maschera ok andiamo avanti Spero ci sia un passaggio Ce l'hanno vista brutta Lo so Maledizione Allora Alla fine sono gli eneo intrusi Spero ciò ha detto che Sneaker State attenti Perché tanto casino per te gli insulti Le iene hanno massacrato una squadra Se che non le lasciamo fuori Ci penseranno gli infetti Hanno ucciso Mike Ecco perché Hanno ammazzato anche Jordan No Oh god Oh god Don't How did you fuck it Oh no, 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 no. Ehi! Ehi! Accio! Guarda qui! Non so, non so! Pulsidiamo le tutti! A presto! Oh, cazzo, anche loro! Occhio! Oh, cazzo, cazzo! Oh, cazzo, cazzo! Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Ok, andiamo, sì, stai bene? Sì, grazie. Tesoro, sono molto stanca. Sì, andiamocene. La via è bloccata. Magari da qui. Hai sentito come ci chiamavano? Viene. Saranno stati loro a disegnare i suoi muri. E a spudellare lupi. In questa città sono tutti squilibrati. Ci credo. Che cazzo? Che cazzo? Grazie. Sì? Grazie. Oddio! Hai mai visto nulla del genere? Spore acide di bloater. Ma quello non sembrava un bloater. Con chiunque combattano, dovremo lasciare che si scannino tra loro. Giusto. Qual è il piano? Lì c'è un'altra scala. Ok. Poi ci arriviamo. Può funzionare. Ok. 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 La scala è vera. 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 Queda qui. Anch'io. 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 Grazie a tutti